Rade, 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 ma che voglia di arrivare se non ci sei tu Io non posso... Buon povericcio amici dello zoccolo duro, invece che mare, mare, rade, rade Ho fatto un po' male oggi la canzone, devo ammettere che l'ho fatto un po' male ma Mi rimprovererete con calma, tra l'altro visto che anche il mio amico Briga Ormai fa tutte le intro cantate, tra l'altro lui ci butta giù i Pink Floyd, cioè fa roba seria Però mi fa piacere che le mie intro cantate prendono piede, si vede che piacciono, si vede che rimangono in testa Quindi l'ho inventate io anni e anni e anni fa e mi fa piacere che la gente segue, anche se le faccio stonare Detto questo, prima di partire, tra poco parto e torno a Milano Quindi domani mattina mi troverete nel solito taxi A Laura, perché qua qualcuno lavora, a differenza di altri Rade Krunic, si parla di questa possibile partenza di Rade Krunic Lo vogliono, mi pare di aver capito il Besiktas Comunque in Turchia, offerta importante per il calciatore Come mai la Turchia pagha questi ingaggi così importanti? Vediamo chi indovina, vi do 3 secondi, 1, 2, 3 Perché pagano meno tasse ragazzi, come in tutto il resto delle cose, no? Per i vestiti, per le robe Pagano molto meno tasse, noi siamo in un paese dove le tasse ti uccidono Di conseguenza non si può fare niente in questo paese Altri paesi invece agevolano chi vuole lavorare, chi vuole fare cose E quindi possono pagare stipendi più alti Quindi quando si parla del calcio italiano rispetto agli altri Bisogna mettere in conto anche che noi paghiamo più tasse degli altri Anzi, già con questo decreto crescita, avete visto quanti acquisti in più si fanno, no? Ovviamente per gli stranieri, poi ci lamentiamo perché abbiamo pochi italiani E qua favoriscono le tasse per gli stranieri e non per gli italiani Dovrebbero favorire per gli italiani Cioè tu dovresti un italiano pagarlo meno, no? Di tasse e pagare di più gli stranieri Non al contrario, invece noi facciamo al contrario Siamo un paese bellissimo Siamo un paese meraviglioso E qua passa anche il treno ogni tanto Comunque gli hanno offerto un ingaggio importante Si parla di un'offerta intorno ai 15 milioni per il Milan E qua il pubblico si divide Lo vendiamo o non lo vendiamo Come le margherite, lo vendiamo o non lo vendiamo Vi dico la mia Vi dico la mia Allora, intanto bisogna capire il calciatore cosa vuole fare Si, sono sudato Bisogna capire il calciatore cosa vuole fare Perché questa è la prima cosa, no? Perché per esempio io fossi la De Krunic Non andrei in Turchia Anche se mi danno tre volte lo stipendio C'ho tempo Cioè ormai con questi arabi, queste robe qua Cioè a fine carriera È vero che c'ho quasi 30 anni, mi pare, no? Però magari aspetto ancora Quest'anno magari non vinciamo niente Però magari sì Cioè secondo me nei prossimi due o tre anni Può essere che qualcosa si vinca, no? Nel Milan Spero, io lo spero Però mi mettono i panni di Rade Krunic Anche lui pensa Boh, magari nei prossimi due o tre anni qualcosa possiamo vincere Quindi, sai, magari lo stipendio viene dopo Poi preferisci vincere la Liga Turca La Super League, mi pare, si chiami la Liga Turca Va bene Sono scelte, sono scelte personali Io non lo so se accetterei di andare in Turchia Piuttosto va in Arabia, ve l'ho già detto Ha stipendi più alti Però Se lui vuole andare Allora c'è poco da Poco da discutere Nel senso, se è lui il primo a chiederti No, io voglio andare Che non è il caso di Tonali Però Lo si accontenta Che cifra? Si parla di una cifra intorno ai 15 milioni Vi dico la verità 15 siamo proprio a pelo Cioè Cederei Krunic a 15 milioni Considerando che Prende poco di ingaggio C'ha comunque intorno ai 30 anni È un jolly che puoi usare in diverse posizioni Io sarei più per i 20 Già a 20 Già a 20 Lo c'è Oh raga, a 20 prendi un giovane Cioè Musa adesso l'abbiamo pagato 18 Cioè a 20 Che poi a me non piace a Musa Però per dirti Con quei soldi Prendi un giovane Che prendi più o meno il stesso stipendio Se non meno Che può fare anche i media Cioè Che Krunic adesso mi risolve i problemi del centrocampo Cioè mi pare a Brabattro pagano 25 Non lo so Sparo eh Forse 30 Non lo so quanto lo pagano Però A 20 lo entro Poi Sono 18 Più bonus Più A 20 per me può andare A 15 Ne parliamo A 20 può andare O no Sbaglio No però Zoccolino Krunic Allora Siamo qui Tutti i giorni a dire Non possiamo giocare con Krunic Titolare tutto l'anno Poi daremo un'offerta E mi dici no Va bene Magari Prendiamo un regista Che poi tra l'altro Manco è un regista Krunic Cioè gioca lì 20 per Krunic Secondo me hanno offerto tipo 10 Più bonus Per arrivare a 15 Non penso che ne abbiano offerti Realmente 15 Quindi Ovvio che Se dovesse essere il giocatore A insistere Che vuole andare via Perché lì gli pagano Tre volte lo stipendio Allora Minimo Mi devi portare 15 Quello sì Cioè sotto i 15 Non lo vediamo Sotto i 15 Sì C'è il contratto E non me ne frega niente Non ci sono aumenti Non c'è nulla Cioè questo è sicuro Però Non penso che si arrivi Allo sconto con Rade Poi mi sembra uno Da quando è arrivato Con umiltà Ha avuto sempre voglia Di imparare Di fare bene al Milan Infatti è cresciuto L'anno scorso Ha avuto un periodo Dove C'è stato un periodo Dove pensava di essere Il fenomeno Si metteva a litigare Vi ricordate? Cioè in Champions Con l'Inter Che mi ha preso i schiaffi Lo voglio ricordare Che se l'hai dimenticato Se buttano fuori Krunic E danno rigore Siamo morti e sepolti Cioè 2-0 per l'Inter Dopo 10 minuti Tipo al diciottesimo Krunic Prende a spalla Ti tira Mette le mani addosso Non mi ricordo a chi Quello è rigore e espulsione Se gli danno rigore e espulsione Altro che Euro derby Il ritorno Se c'era Leao 3-0 Primo tempo Già l'andata E non si sa come va a finire In 10 Non si sa come va a finire Quindi Ha fatto anche delle robe Che non doveva fare C'è stato un periodo Che si metteva a litigare Con tutti Più di una volta Quindi Diciamo che Va bene Se rimane va bene Fa il suo È un jolly Tranquillo Deve rimanere quello Cioè devi rimanere Umile Perché devi sempre Ricordarti che sei Krunic Non sei Modric Non sei Non sei nemmeno Amrabat Ma forse neanche Torreira Sei Krunic Quindi finché rimani umile Vai bene a tutti Iscrivetevi al canale Seguitemi su TikTok Adesso usciranno nuovi Reel Anche su Instagram E su TikTok Forse Ho trovato il modo Per poterveli fare Nel modo giusto Vediamo bene Ciao 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 Ciao